Presso il consultorio Vita e Amore di Piano di Sorrento per l'apertura di un nuovo sportello che si occuperà di antiviolenza, abusi e discriminazioni. Questo ne parliamo con la professoressa Filomena Mastellone. Consultorio Vita e Amore è qui da molto tempo. Che cosa ci può dire di questo sportello? Come è nato? Di che cosa vi occupate principalmente? Quali sono le ultime cose a cui avete dato vita? Dunque, noi abbiamo aderito con molto interesse e entusiasmo per ospitare questo sportello antiviolenza perché pensiamo che sia un'iniziativa utile a tutta la popolazione e specialmente alle donne che possono avere un punto di riferimento nel caso di difficoltà di questo tipo. Il consultorio familiare che esiste da circa 40 anni in questo ultimo periodo si sta occupando di volontariato da parte degli alunni del liceo scientifico delle ultime classi che si prestano a svolgere un doposcuola per i ragazzi di prima e seconda teglia. Perfetto. Quindi... Continuerà anche durante l'estate o vi prendete un periodo di riposo? Un periodo che va praticamente solo nell'anno scolastico e che quindi serve per gli alunni che a casa purtroppo non possono avere un aiuto. La scuola ha risposto a questo vostro invito? Sono stati veramente collaborativi e mi dicono che i risultati sono buoni. Sono tangibili. Perché quando ci sono ragazzi che non hanno altri aiuti, anche questo piccolo aiuto dato da noi e dai ragazzi del liceo è una cosa apprezzata. Diciamo che i ragazzi lo fanno per volontariato, però in compenso hanno un punteggio, qualcosa per il loro curriculum scolastico. Sì, certamente. Inoltre abbiamo qui mensilmente un senologo della Lilt che fa gratuitamente le visite senologiche per la prevenzione del tumore al seno. La Lilt è Lega Italiana, lotta in tumore. E quindi anche questa iniziativa è seguita da molti anni. Queste sono le nostre iniziative. Rosa Russo Gargiulo, presidente del CIF. Che cos'è il CIF? CIF, il Centro Italiano Femminile, un'associazione che esiste, è la più antica d'Italia perché esiste da 72 anni. È un'associazione femminile, prettamente femminile, di ispirazione cattolica. È nata nel 1944 per fare da supporto alle donne lavoratrici, creando assidi nido, creando colonie marine, montane, per aiutare le donne che nel mediato dopo guerra si erano sostituite in uomini. E nel contempo ha preparato le donne al voto perché nel 1946 per la prima volta si è votato. Ed inoltre la prima presidente nazionale del CIF è stata una delle cinque donne della Costituente italiana. Quindi c'è un'associazione che si è sempre occupata del mondo femminile e che poi nel tempo naturalmente si è evoluta perché gli interessi sono cambiati, gli esigenzi sono cambiati. E fino ad oggi che praticamente il mondo femminile ha bisogno invece di altri fumi di supporto. Come è nata questa idea di questo centro antiviolenza, abusi e discriminazione? Come è nata? Perché c'è bisogno di un punto di riferimento per poter venire a parlare di tutte queste cose un pochino scabrose che succedono nelle famiglie e tutto. Voi avete aperto, aprirete col 4 luglio, questo sportello. Sì, praticamente è nato dall'8 marzo, l'8 marzo scorso. Cioè già in itinere c'era questa voglia, però bisognava fare una specie di cambio generazionale perché avevamo bisogno di forze giovani per affrontare questi problemi. E c'è capitata l'occasione, l'8 marzo, in testando Piazza Conta, la Piazza 8 marzo, con un sito e altre piazze del territorio. E a questo punto abbiamo precisato che in realtà questo 8 marzo non è una festa, ma è un momento di riflessione per le conquiste, sì, delle donne, ma anche tutto quello che è diventata una specie di qualcosa di contro le donne. Cioè questa forza nuova delle donne ha fatto sì che i massi non avessero più un ruolo lungo e per cui ritengono che le donne sia un ruolo possesso, per cui ci sono state una serie di femminicidi, come noi sappiamo. E allora questo 8 marzo ho avuto la fortuna di parlarne con Rossella Solimeno che si è dichiarata entusiasta e siamo partite. E quindi a questo punto io penso che meglio di queste giovani che veramente portano la loro linfamità nell'associazione, abbiamo deciso di fondare, di rifondare un CIF a Piazza di Sorrento che da tempo, che la prima fondatrice del CIF in Penisola Sorrentina era la preside Giulia Almano, che è stata sempre una donna all'alacquare, è stata la prima donna di cesineco di Piazza. E quindi questo luogo che è il consultore, che porta anche il suo nome dopo la sua morte, abbiamo fatto sorgere questo sportello. Rossella, dottorista Rossella Solimeno, una bella responsabilità questa? Una responsabilità che le giovani donne devono assumersi perché dobbiamo farci promotrici di un cambiamento. Molto spesso le donne si abituano alla violenza, nel senso che anche in famiglia, in casa, con gli amici uomini, risultano avere un atteggiamento un po' sottomesso, fanno fatica ad esprimere le proprie opinioni e questo è un qualcosa che bisogna combattere e siamo noi le prime a dover combattere questo tipo di atteggiamento. Il fatto di dire che tu non puoi perché sei donna non esiste. Rossella, sarai coadiuvata da qualcun altro in questo tuo nuovo impegno? Certo, sarò coadiuvata dalla dottoressa Viviana Attanasio, che è una psicologa e psicoterapeuta che come me ha abbracciato questa iniziativa. Con entusiasmo, con entusiasmo che è proprio caratteristico dei giovani che si lanciano per dare una mano. Sì, è da un giovane avvocato penalista, Valerio Massimo Aiello, che ci darà un supporto dal punto di vista legale. Allora, ne parleremo quando di questo evento? Siamo il 27 alle 17.30 presso il Centro Culturale Comunale di Piano di Sorrento e vi aspettiamo. Vi aspettiamo, possiamo anche dire che c'è la partecipazione del pubblico ministero Magariello, che è una donna molto impegnata soprattutto nei problemi di violenza femminile e ci sarà il vescovo della diocesi Castellano. Un generale Fano. Sì, un generale Fano. Quando saranno aperti questi sportelli? Ci saranno degli orari? Come fare per mettersi in contatto con voi? Ci potrete contattare, chiunque ci potrà contattare perché il tutto sarà ovviamente anonimo, cioè noi saremmo nel pieno rispetto dell'anonimato, della privacy. Ci potrete contattare attraverso un'email sportelloantiviolenza.piano.com e ci troverete qui già dal 4 luglio, il lunedì, dalle 18 alle 20 e il mercoledì dalle 10 alle 13. Perfetto, allora non ci resta altro che augurarti in bocca al lupo per questa nuova esperienza e vederci lunedì alle 17.30 presso il Centro Culturale a Piano di Sorrento. Grazie. Grazie a voi.